Quali sono le cause gonfiore del ginocchio? Il gonfiore del ginocchio è più comunemente causato da sangue o liquido all'interno o intorno all'articolazione del ginocchio. Gli accumuli di liquidi sono solitamente causati da lesioni. Questo è particolarmente vero se il gonfiore al ginocchio è improvviso. Oltre alle lesioni, condizioni come l'artrite e la gotta possono anche causare gonfiore al ginocchio. Ci sono quattro principali legamenti associati all'articolazione del ginocchio, e quello che è più soggetto a lesioni o strappi è chiamato legamento crociato anteriore, LCA. Le lacrime della CL sono spesso legate allo sport, ma possono essere sostenute in molte altre attività. Il più delle volte questo legamento è strappato quando si esercita una pressione eccessiva sul ginocchio quando si salta o si fa perno. Il gonfiore del ginocchio provocato dalle lacrime della CL è in genere molto repentino ed è causato dal sangue che scorre verso l'interno del ginocchio. In alcuni casi, le lacrime ACL sono così gravi che è necessaria la chirurgia ricostruttiva, tuttavia, con lacrime minori, il ginocchio spesso guarisce da solo entro un paio di mesi. In molti casi, le distorsioni dei legamenti possono anche portare a gonfiore all'interno e intorno al ginocchio. Le distorsioni non sono generalmente gravi come le lacrime e di solito non richiedono un intervento chirurgico. La maggior parte delle distorsioni del tempo, anche se molto dolorose, sono completamente guarite nel giro di poche settimane. A differenza delle lacrime ACL, il gonfiore derivante da distorsioni può richiedere diverse ore o addirittura giorni e l'accumulo di liquido nel ginocchio non è solitamente sanguinolento. L'artrite è una condizione che può interessare una o entrambe le ginocchia, ed è in genere accompagnata da dolore, rigidità e gonfiore. Questo perché l'artrite causa spesso accumulo di liquido all'interno e attorno alle articolazioni. Le persone che soffrono di artrite al ginocchio di solito hanno sintomi che vanno e vengono. In molti casi, anche la quantità di gonfiore sembra corrispondere al livello di attività del malato di artrite. Se sono stati molto attivi, potrebbero vedere più gonfiore. Le persone che soffrono di gotta spesso sviluppano depositi di acido urico cristallizzato nelle loro ginocchia e questi depositi spesso causano gonfiore al ginocchio. L'acido urico è un composto che il corpo produce per aiutare la digestione e di solito viene eliminato con i rifiuti corporei. Le persone con la gotta, tuttavia, non sono in grado di liberare il loro corpo dall'acido, invece l'acido si accumula all'interno delle loro articolazioni. Il più delle volte, il gonfiore del ginocchio viene trattato con farmaci antinfiammatori non steroidei, come l'ibuprofene e l'aspirina. Se questi farmaci non riducono il gonfiore, potrebbe essere necessario che il paziente abbia iniettato steroidi direttamente nel ginocchio. La maggior parte delle volte si consiglia ai pazienti di usare il ginocchio il meno possibile fino a quando il gonfiore non si è abbassato.